Millie Carlucci si sbottona sulla nuova edizione di Ballando con le stelle, il dancing show di Rai 1, in cui diversi VIP si esibiscono in coppia con maestri di ballo alla ricerca della performance perfetta. Millie Carlucci, intervistata da Superguida TV, ha parlato della nuova edizione di Ballando con le stelle, il dancing show di Rai 1, in cui diversi VIP si esibiscono in coppia con maestri di ballo alla ricerca della performance perfetta. Millie Carlucci sul cast di Ballando con le stelle, abbiamo tanti contatti che sono stati avviati e portati ad una fase conclusiva, ma mancano ancora le firme. Il popolare programma della rete ammiraglia di Piazza Mazzini tornerà in onda diciannovesima edizione a partire da sabato 28 settembre 2024. Ecco cosa ha dichiarato la conduttrice, ci teniamo ancora una volta per questa diciannovesima edizione ad essere un programma che è una sicurezza per la nostra rete, che ci dà budget, fiducia, spendiamo dei soldi, che devono servire a intrattenere in maniera superba il pubblico di Rai 1. La partenza anticipata è sempre un po' complicata, perché c'è di mezzo il mese di agosto dove tutto un po' si ferma. È complicato, ma era necessario alle luce delle 12 puntate che faremo quest'anno, e quindi di un'edizione extra large. Ci sono più coppie ed è tutto un lavoro complesso, grande. Ancora da definire, il cast, anche se si vociferano già diversi VIP pronti a mettersi in gioco. Tra gli altri, l'ex moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli. A tal proposito, la Carlucci ha dichiarato Stiamo ancora finendo il cast. Finito il cast, si parlerà di tutto il resto. Abbiamo tanti contatti che sono stati avviati e portati ad una fase conclusiva, ma mancano ancora le firme, perché quelle arrivano quando burocraticamente abbiamo la matricola e quindi possiamo firmarli. Non possiamo ancora dire niente. Si è parlato di due nomi bomba quest'anno, ovvero Belen Rodriguez e Barbara Durso, entrambi ormai lontano da Mediaset. Facciamo interviste a 360 gradi e ci interessiamo di tutto il mondo che si muove intorno allo spettacolo, ed è possibile portare in tv. Poi alcune cose riescono, alcune no. Quelle che non escono un anno, magari vengono buone l'anno dopo, due anni dopo, tre anni dopo. Non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati con le ultime novità su Flash Trend Ita.